Sappiamo, Assessore Zonta, che lei aspira alla santità, che lei, Presidente, inviti per corsesia l'Assessore Zonta a non offendere un consigliore che sta parlando senza offendere nessuno. Ma non importa, lei è sempre nel mio cuore, lei non è che aspira, oltre che aspirare al soglio del sindaco, aspira anche al soglio papale, lo veniamo a sapere questa sera. Volano letteralmente gli stracci in Consiglio Comunale a Bassano, dove ormai ogni seduta diventa occasione di scontri piuttosto vivaci fra maggioranza e opposizione. E l'Assemblea cittadina di lunedì sera non ha deluso le aspettative da questo punto di vista, con uno scambio di opinioni molto duro fra il vice sindaco Andrea Zonta e il consigliere di minoranza Angelo Vernillo. Con il primo che se ne va sbattendo la porta e il secondo che chiede alla Presidenza consigliare di limitare le espressioni fuori microfono del componente della giunta Pavan. Appare ironico il fatto che ancora una volta dividere maggioranza e opposizione sia un ponte, nello specifico il ponte della vittoria, con il suo complesso cantiere e con la proposta della minoranza di trovare ristori o aiuti per le attività colpite dal cantiere. Provvedimento proposto e bocciato. La risposta è stata un secco no, sorprendentemente perché la richiesta veniva da una parte della maggioranza e da tutta la minoranza, con motivazioni che secondo me non stanno assolutamente in piedi. È stato detto innanzitutto che non si può fare, perché questa sarebbe un'agevolazione che non trova fondamento normativo. In realtà le norme prevedono che in caso di lavori pubblici a fronte di gravi disagi si possano anche non dare dei contributi ma ridurre la fiscalità che compete al Comune. Attenzione, pare proprio che sull'argomento ci sia un precedente e neanche troppo lontano nel tempo. È già stato fatto oltretutto, perché quando io ero sindaco della città, in occasione di lavori sul Ponte Vecchio, abbiamo per due anni eliminato la tassa rifiuti a tutti gli esercizi commerciali, più ristoranti, più i bar, le gelaterie di Borguangrano che oggettivamente avevano avuto un disagio maggiore rispetto a quelle chiusure, che peraltro erano più limitate di quelle che sono avvenute per il Ponte Nuovo. Secondo l'opposizione i fondi si potevano trovare, visto il momento e la situazione. Quindi la scelta andrebbe letta sotto una luce prettamente politica che però va a colpire la città e i suoi commercianti. Quindi non capiamo questa mancanza di volontà di dare un segnale alle attività economiche che hanno subito un danno economico certo, in qualche caso anche particolarmente importante e peraltro anche con una comunicazione che è arrivata tardissimo. Grazie. 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 Grazie.